Grazie al mio lavoro nessuno rimarrà solo. Il mio lavoro renderà più semplice la vita di molte persone. Informerò al meglio per essere uno dei migliori nel mio settore. Per imparare a scrivere il nostro futuro. Scegliamo oggi per il nostro domani. Benvenuti nella scuola dove nascono le opportunità. Grazie a tutti.